Buongiorno a tutti e benvenuti nella Mangano Digital Academy, la casa dell'odontiotria digitale. Oggi parliamo in questa lezione di accuratezza nell'impronta full arch, per appunto la full arch su impianti, e ci occupiamo in particolare di uno degli aspetti fondamentali, ovvero dello scan body. Qua è segnato al punto 5 perché è uno degli elementi del flusso di lavoro, in realtà probabilmente è uno degli elementi più importanti perché lo scan body ha un effetto importantissimo sulla qualità finale dell'impronta, perché ci sono tanti aspetti dello scan body che vanno considerati. Il design, il materiale, la tolleranza di fabbricazione, come viene torcato, cioè la sua posizione effettiva, ci sono tanti aspetti che vedremo in questa lezione. Ovviamente lo scan body è uno degli elementi, ma non può più essere considerato meramente un transfer digitale, perché nel modo in cui si lavorava e nell'impronta analogica, il transfer era semplicemente un dispositivo di trasferimento. Qui addirittura di più, le implicazioni, le considerazioni che vanno fatte sono più numerose e vanno viste nel dettaglio. Quindi gli elementi che contribuiscono a determinare un'impronta di qualità per un restauro full arch su impianti sono senz'altro lo scanner intraorale, con la sua accuratezza intrinseca, l'operatore, con la sua esperienza, la sua abilità, la sua strategia di scansione. Il paziente con il numero, l'inclinazione, la profondità degli impianti, le condizioni di luce, condizioni ambientali e anche la temperatura. Lo scan body, come abbiamo detto e come vedremo in questa lezione, che è fondamentale, e poi quella congruenza o corrispondenza tra la mesh e i file di libreria, quando l'odonto tecnico va a matchare su per imporre i file di libreria sullo scan body da scansione intraorale e va a sostituire appunto le librerie, il file di libreria alla mesh dello scan body, creando un modello ibrido che poi l'odonto tecnico va a modellare esattamente sui file di libreria che sono accoppiati al file di libreria dello scan body. Quindi questo momento della congruenza è molto importante, questa congruenza tra mesh e file di libreria, perché laddove manchi questa congruenza vi sono dei problemi poi di posizione e questa congruenza dipende anche molto dallo scan body. Allora andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le cose importanti da considerare. Diciamo che lo scan body è uno degli elementi fondamentali quindi e le caratteristiche che vanno viste all'interno dello scan body sono queste, la struttura fondamentalmente costituita da tre porzioni, una base, un corpo e una scan region, cioè la regione di scansione, il materiale, il design, se è one piece or two pieces, la tolleranza di fabbricazione, il posizionamento corretto, e il posizionamento deve essere corretto, quindi con il giusto torque di inserimento. E se noi andiamo a vedere appunto quelle che sono le caratteristiche che lo scan body deve avere, eccoci sulla struttura, come sono fatti questi scan body, come vi dicevano tre porzioni fondamentali, la base che è quella che ingaggia all'interno dell'impianto, il corpo e poi la regione di scansione. Cioè quell'area di solito che ha una superficie piatta o pianeggiante che funge da indice ma che aiuta anche la sovrapposizione tra mesh e file di libreria poi da parte dello donto tecnico. Quindi abbiamo una porzione coronale che è la scan region, la porzione centrale, la più ampia che è il corpo, e poi la porzione apicale che è la base. Consiglio di leggere questa revisione narrativa e questa revisione sistematica della letteratura di Mizumoto perché descrive molto bene l'argomento scan body. Noi abbiamo scan body che possono essere di tipi diversi. Questo per esempio è uno scan body one piece in peak, lo vedete sulla sinistra della Strauman, sulla destra vedete uno scan body two pieces ma già preassemblato dall'azienda che ha una base in metallo e poi un corpo e una scan region in peak. Parliamo della base. Allora la base è quella che va a ingaggiarsi nell'impianto, quindi è fondamentale, no? Può essere in peak, come vi ho detto, può essere in metallo. Idealmente sarebbe meglio averla in metallo perché va a ingaggiarsi in una porzione in metallo. Noi sappiamo che una porzione in peak, se si va a ingaggiare in una porzione in metallo, rischia di rovinarsi, così come poi le parti in peak vanno soggette a un ammaloramento dopo essere state sterilizzate, dopo essere state utilizzate diverse volte. Quindi idealmente la base ideale è chiaramente una base in metallo, però quando si ha una base in metallo bisogna comunque considerare che il metallo è più facile da lavorare, ma comunque in caso di connessioni coniche vi è sempre un errore sull'asse Z di posizionamento, quindi in altezza dello scan body, perché è una tipologia di connessione, questa che è molto più difficile da realizzare fisicamente rispetto a un flat flat, un esagono esterno, un esagono interno. Io mi sentirei di dire che praticamente è molto difficile utilizzare uno scan body che abbia una parte di base in peak diverse volte, particolarmente in caso di una connessione conica. Viceversa in caso di una connessione conica, qualora la base sia in metallo, può essere riutilizzato senza problemi, lo scan body, ma bisogna considerare sempre che le connessioni coniche sono più difficili, perché c'è un rischio di displacement in Z, quindi una modificazione dell'altezza letta, proprio perché lavorare lo scan body in una connessione conica, lavorare in una connessione conica è più difficile, questo è naturale, non è una cosa sorprendente. Quindi gli scan body con una base in peak, come questo one piece della Strauman, devono essere maneggiati con cura, perché il torque, per esempio, di inserimento è importante, se noi andiamo a torcare troppo, torcare troppo lo scan body, rischiamo di rovinarlo al tempo stesso, perché la connessione peak con il metallo vince il metallo, al tempo stesso dovremmo stare attenti quindi a non riutilizzarlo, dovrebbero essere considerati dei dispositivi da utilizzare una volta sola, disposable, come dice anche la letteratura, per un uso singolo, e possibilmente non per gli impianti con connessioni coniche. D'altro canto, se noi andiamo a vedere è il discorso degli impianti con connessioni coniche, la presenza di una connessione conica crea delle difficoltà anche se la base è in metallo, perché ci possono essere dei displacement, dei z-effetti, lungo l'asse z, quindi degli errori in altezza, proprio per il fatto che è difficile fare le connessioni coniche ad altissima precisione. Parlando del corpo, il corpo generalmente, tutti gli scan body sono two pieces, cioè hanno un corpo che è in peak su una base di metallo, quasi tutti sono così, però ci sono anche degli scan body one piece in metallo, come per esempio quelli della New Ankovis, o one piece interamente in peak, come quelli di Stramon che ho fatto vedere prima. Nel corpo può essere fatto di diversi materiali, generalmente per le proprietà ottiche si sceglie il peak, che sicuramente dà meno problemi in fase di scansione rispetto al metallo, quantomeno il metallo lucide, il metallo sabbiato dà già un po' meno di problemi. Il problema è la macchinabilità del peak, che è un materiale che si è fresa con maggiore difficoltà, soprattutto è più difficile controllarne l'espansione, la contrazione in seguito al processo di fresatura, quindi non è così semplice da trattare. Inoltre un altro aspetto da considerare, probabilmente è più semplice trattare, fresare sicuramente, o tornire il metallo in maniera precisa. Certo un altro aspetto da considerare è anche l'assemblaggio, perché i two-piece vanno assemblati, devono essere assemblati dall'azienda, possibilmente non devono essere disassemblabili dall'odontoiata, altrimenti c'è il rischio di perdere veramente in precisione. Possono essere tutti delle valide soluzioni, one-piece in peak ha il vantaggio che appunto è un pezzo unico, le proprietà ottiche sono ottimali, non può essere utilizzato di solito nelle connessioni coniche e è un dispositivo che è considerato disposable. One-piece in metallo si può utilizzare più volte, è più semplice realizzarli dal punto di vista produttivo, è un po' più difficile scandirli, a meno di dire se sono sabbiati il two-piece potrebbe essere il compromesso ideale. È chiaro che bisogna guardare anche la scan region, come sono fatti questi scan body. Oggi sono fatti più o meno tutti in questa maniera, sono dei cilendri con una specie di intaglio o una superficie flat non tanto grande a livello coronale. In passato erano forme molto complesse, ma queste forme complesse mettono in difficoltà gli scan che non sono in grado di replicare forme complesse, angoli vivi, spigoli, eccetera. Quindi è molto meglio avere una struttura semplice e idealmente onde evitare di forzare il software e l'algoritmo di superimposizione all'interno del software di computer assisted design e portare a posizioni scorrette è meglio che questa scan region sia piccola, inferiore al 20% di tutta la superficie per esempio del corpo. Quindi è un riferimento, un indice che aiuta sicuramente nella sovrapposizione ma non deve trarre in inganno il software durante la fase di sovrapposizione perché se questa superficie è molto ampia può attrarre su di sé di fatto può attrarre su di sé la sovrapposizione e quindi creare delle problematiche in fase poi di posizione dell'impianto. Avremo un mismatch di posizione dovuto al fatto che durante la sovrapposizione il file di libreria sulla mesh il file di libreria è tirato unicamente la sovrapposizione viene fatta unicamente sulla superficie piatta e questo noi non lo vogliamo quindi questo è un altro aspetto il design deve essere semplice la scan region deve essere possibilmente ridotta come dimensioni. Tantissimi studi hanno analizzato l'influenza della geometria dello scan body e hanno visto che questa influenza è il risultato finale l'accuratezza finale dell'impronta. Nella gran parte di questi studi però mischia due elementi il design dello scan body provando diversi scan body in vitro e anche determinate strategie di scansione e questo può essere un problema perché ovviamente sono due cose differenti certamente noi dobbiamo ricordare che quel momento il momento in cui si fa il best fit all'interno del software di computer assist design è il momento più importante di tutti quello nel quale si valuta la congruenza tra la mesh quindi la ricostruzione di superficie del nostro scan body acquisita con lo scanner intraorale e il file di libreria che ho a disposizione accoppiato con tutte le componenti della libreria. In questa fase l'odonto tecnico dovrebbe controllare e idealmente gli errori globali dati da questa sola posizione dovrebbero essere inferiori ai 10 micron per elemento su un'arcata per esempio edentula in cui abbiamo 6 scan body 8 scan body assolutamente ciascun elemento dovrebbe avere un errore di sovrapposizione inferiore a 10 micron se questi errori per ciascun elemento sono superiore a 50 micron capiamo bene che la sovrapposizione non sarà corretta gli scan body saranno nella di fatto le componenti della libreria implantare saranno in una posizione non corrispondente al vero avremo una mancanza di congruenza e questo è un grosso problema quindi dobbiamo evitarlo. io mi sono occupato andando ad analizzare gli scan body di un aspetto che è stato poco considerato finora in letteratura cioè come vengono fatti questi scan body qual è la tolleranza di fabbricazione di diverse tipologie di scan body per capire se c'è un problema in origine cioè se questi scan body sono fatti bene oppure no e quindi abbiamo sottomesso questo lavoro che è in fase di valutazione dell'International Journal of Prostodontics e questo lavoro faceva altro che comparare attraverso microscopie elettroniche precision probing sei diversi scan body quindi un lavoro in vitro che è andato a valutare le dimensioni di questi scan body le dimensioni effettive di questi scan body 5 per tipo ed è andato a comparare queste dimensioni ottenute con microscopie elettroniche e tastatura di ogni singolo pezzo a quelle che sono le dimensioni della libreria per capire se c'è una corrispondenza oppure meno tra queste componenti cioè se ci sono degli errori di fabbricazione abbiamo analizzato questi scan body qua due della Nobel Biocare uno per un flat to flat esagono esterno uno per con la tipologia di connessione conica due differenti scan body della Strauman one piece in pic e poi infine due scan body per connessioni coniche che come abbiamo detto sono a prescindere svantaggiati sull'asse delle Z ma dobbiamo considerare gli enormi vantaggi di utilizzare clinicamente degli impianti di connessione conica quindi non si può avere tutto ma sicuramente sono due scan body quello di BTK e di Megagen diversi per caratteristiche e forma sono però tutti e due dei two pieces e sono tutti e due assemblati dall'azienda sebbene con forma diversa quindi questi sei scan body noi li abbiamo comparati qui sono già collegati ai loro analoghi sono stati collegati ai loro analoghi seguendo le raccomandazioni delle diverse aziende sono stati valutati nel dettaglio attraverso un'analisi attenta di microscopia e precision probing quindi lo studio si basava su tre diversi passaggi prima di tutto abbiamo fatto una valutazione delle librerie scaricandole da Exocad per le diverse compagnie quindi siamo andati a fare un'analisi volumetrica dei pezzi fisici e poi abbiamo comparato i numeri venuti fuori dall'analisi A con i numeri venuti fuori dall'analisi B e l'analisi dei pezzi per capire quali sono le tolleranze di fabbricazione dei diversi scan body la prima fase era quella di valutazione delle librerie quindi come sono fatte le librerie e quali sono i numeri delle librerie di questi diversi scan body e questa è una valutazione abbastanza semplice cioè abbiamo preso le librerie abbiamo fatto dei calcoli con dei software dedicati per capire diametro altezza dello scan body e anche inclinazione di quel piatto di quell'intaglio che è nella scan region in questo caso per il Nobel Biocare esagono esterno abbiamo questi dati per il Nobel Biocare Conical Connection abbiamo questi dati che sono importanti per lo Straumann bone level abbiamo questi dati quindi un'inclinazione di un certo tipo del piano in questo caso 76 gradi in altezza di 9 diametro di 4,1 perché era un bone level 4,1 siamo andati a analizzare anche lo scan body che viene utilizzato nella Straumann dal tissue level 4,8 quindi abbiamo un piano con un'altra inclinazione ancora di poco differente un diametro di 4,8 naturalmente un'altezza ancora una volta di 9 siamo andati a valutare lo scan body di Biotech BTK diametro 4,9 altezza poco più di 10 e un'inclinazione di questo piatto della scan region di 60 gradi e infine quello della Megagen impianto Eniridge diametro in questo caso 4 mm altezza 13 e in questo caso non abbiamo un piano ma siamo andati a valutare come piano la misurazione diciamo al top dello scan body abbiamo fatto questa misurazione come si vede nella seconda immagine questi sono stati i dati quindi delle valutazioni dei file CAD e abbiamo questi dati che sono i nostri dati di riferimento in altre parole noi dovremmo comparare quello che troviamo sul pezzo fisico a quanto abbiamo trovato nel CAD e a quanto abbiamo riassunto in questa tabella quindi siamo andati a fare l'analisi volumetrica dei pezzi o degli scan body prendendo 5 scan body per tipo dal commercio quindi acquistandoli regolarmente dal commercio e sottoponendoli a un'analisi per microscopia ottica più precision probe quindi in pratica abbiamo sondato con una sonda ad altissima precisione Renishow tutti i pezzi per un lungo periodo ottenendo diversi samples e poi abbiamo ottenuto dei valori medi per ciascun pezzo qui è come abbiamo realizzato questo studio in questo caso stiamo parlando dei Nobel Bioker Brandenmark la valutazione è stata fatta con questo QVAS Marsco Flash 200 a 33 ingradimenti mentre invece abbiamo utilizzato una sonda Renishow R025 con una tolleranza veramente minima di calibrazione tutte le volte poi la macchina è stata calibrata con dei programmi dedicati per le diverse misurazioni dei diversi impianti l'analogo ne ha bloccato all'interno di questo dispositivo di bloccaggio dopo aver effettuato la calibrazione si poteva procedere con le misurazioni che hanno richiesto parecchio tempo la tolleranza di calibrazione veramente minima è praticamente di 0.0013 millimetri e quindi abbiamo sondato praticamente tutti i pezzi ripetendo il sondaggio per ciascuno dei pezzi acquistati dal commercio regolarmente onde ottenere una valutazione su un gran numero di sample perché abbiamo valutato 5 per 6 in totale 30 sample che è un numero non altissimo ma che ci dà un'idea comunque di quelle che sono le caratteristiche di ciò che troviamo in commercio e ci permette di andare a valutare le tolleranze dei pezzi attualmente in commercio qui il video relativo a Nobel Biocarbonical Connection poi tutti questi scambodi hanno determinati codici che si possono trovare tranquillamente anche su internet su web queste erano invece le misurazioni fatte sullo Straumann Bonlevel ancora una volta sempre con le stesse macchinari settati adeguatamente però dopo aver appunto disposto il bloccaggio all'interno del macchinario di riferimento quindi il sondaggio con Renishow e quindi questo studio è stato uno studio che ha richiesto molta pazienza una valutazione dei dati attenta possiamo vedere le diverse diversi elementi studiati il Traumann Tissue Level da RN 4.8 identica valutazione anche qua e siamo andati a fare le medesime valutazioni anche sui due impianti sui due scambodi diciamo per impianti a connessione conica in questo caso gli ultimi due che abbiamo valutato oltre a Nobel Biocar abbiamo valutato appunto il BTK KR e poi abbiamo valutato Any Ridge quindi gli scambodi della Megagen questi sono due impianti con connessione conica e quindi c'è già da aspettarsi per questo motivo un mismatch sull'asse Z che comunque è tollerabile ma è da attendersi perché la fabbricazione di una connessione conica è molto più complessa rispetto a quanto non sia quella di una connessione flat to flat un esagono esterno o anche un esagono interno quindi queste sono le misurazioni che abbiamo fatto con lo Strauman Tissue Level andiamo avanti queste sono le valutazioni che abbiamo fatto per ciascuno dei singoli pezzi della BTK quindi per questo KR e ancora una volta programmi dedicati per ciascuna delle diverse tipologie di scambodi perché ovviamente il bloccaggio all'interno della macchina richiede un programma dedicato quindi del tempo la valutazione con microscopia ottica e poi il sondaggio che è la parte più corposa dalla quale si ricava il maggior numero di dati e si possono poi ottenere tutta una serie di numeri che andiamo a comparare con il nostro file di riferimento e questo è l'ultimo l'ultima serie set di video che ci permettono di vedere il Megagen Any Ridge possiamo vedere i samples e qui ancora una volta la calibrazione della macchina e poi la valutazione degli aspetti posizionali e quindi degli aspetti dimensionali dello scambodi sono scambodi diversi per forma per caratteristiche e questo naturalmente ha anche un impatto su quello che può essere il margine di errore di tolleranza non sono stati valutati in questo studio degli scambodi unicamente in metallo sicuramente voglio farlo nel prossimo studio perché sono molto curioso di vedere se effettivamente la macchinabilità del titanio porta dei risultati migliori soprattutto in caso di titanio magari sabbiato queste sono le medie che abbiamo trovato con le deviazioni standard in statistica descrittiva per queste diverse tipologie di scambodi altezza diametro e misurazione della scan region cioè la parte di piano di intaglio possiamo vedere che abbiamo dei risultati che si discostano un pochino rispetto a quanto non abbiamo visto nel file CAD quindi esistono delle tolleranze già questo è qualcosa di evidente andiamo ad analizzarle quanto sono queste tolleranze come impattano queste tolleranze queste sono le tolleranze nelle misurazioni in altezza media e 95% intervallo di confidenza i risultati che mi hanno sorpreso maggiormente non sono quelli di Strauman Strauman è un one piece in pick quindi è un dispositivo che è da considerarsi per un uso singolo e dal punto di vista dell'altezza è favorito per il fatto che non è assemblato e quindi per il fatto che non è una connessione conica quindi andando su flat to flat è avvantaggiato mi ha sorpreso molto il risultato eccellente ottenuto da Nobel Biocar conica connexion sulla Z perché mi aspettavo un risultato peggiore ma gli scambodi di Elos hanno una grande qualità ed Elos produce per il Nobel Biocar un po' meno buono il risultato del Nobel Biocar Branemark perché essendo un esagono esterno mi aspettavo un risultato migliore assolutamente nella norma i risultati degli altri due diciamo sull'asse Z perché le connessioni coniche presentano inevitabilmente un displacement sulla Z quindi questo è assolutamente normale questo grafico permette di valutare che tipologie di displacement nei diversi campioni e anche appunto l'intervallo di confidenza che abbiamo all'interno di queste valutazioni quindi le differenze in questa tabella vediamo tra le coppie diciamo di tipi di scambodi in alto a destra troviamo la differenza e in basso a sinistra nella tabella troviamo il valore di p quindi ci sono differenze statisticamente significative nelle tolleranze di fabbricazione relative all'altezza di questi scambodi andiamo a vedere le misurazioni di diametro in questo caso i migliori sono risultati di scambodi della Megagen quindi sono estremamente accurati il diametro il cilindro che è molto importante è una delle cose più importanti per la posizione relativa dell'impianto perché l'altezza è importante ma il diametro ancora di più il diametro il cilindro ancora più importante noi vediamo che sono veramente minime cioè sono dei valori ottimali ma più o meno troviamo questi valori ottimali in tutti in tutti i pezzi Nobel Biocare BTK Strauman sono delle deviazioni minime quindi ci sono delle tolleranze di pubblicazione che sono minime in questo caso per fortuna e questo è molto importante se andiamo a vederli in una rappresentazione grafica troviamo questo ci sembrano grandi ma guardate che in questo caso siamo tra gli 0 e più 10 e meno 10 micron quindi stiamo veramente su valori bassissimi nei valori medi si avvicinano molto allo 0 quindi stiamo su tolleranze minime quindi sull'altezza si soffre di più naturalmente particolarmente le connessioni coniche perché è molto difficile basta un minimo una minima irregolarità all'interno della connessione conica che è un mismatch in zeta viceversa sui diametri la cosa diventa più semplice più fattibile e questo è importantissimo per la posizione finale questa è la tabella delle differenze nelle misurazioni in diametro ancora una volta in alto a destra troviamo le differenze e le distanze tra le diverse coppie di tipologie di scan body in basso a sinistra troviamo il valore di P laddove P è inferiore a 0.05 c'è una differenza statisticamente significativa all'interno delle coppie e queste sono le tolleranze in piano e qui troviamo che ci sono delle tolleranze importanti in alcune case che magari non curavano per scelta questo piano però fondamentalmente questa è una misurazione importante ma probabilmente meno importante di quella di diametro e in altezza perché questo soprattutto laddove questo intaglio questo flat surface è piccolo perché questo è più che altro un indice che deve guidare poi l'algoritmo di sovrapposizione a sovrapporre bene il corpo dello scan body e comunque ci sono delle differenze anche qua che possiamo vedere sono delle differenze minime relative per lo scan body in megagen sono un pochino più alte per lo scan body in BTK in questo caso relative a delle modifiche dell'angolo dell'intaglio cioè della flat surface che comunque è un elemento di riferimento ma che è di minore importanza rispetto al discorso del diametro e dell'altezza queste sono le differenze tra coppie nei plane measurement quindi queste misurazioni del piano della scan region tra diverse coppie di scan body e ancora una volta in alto a destra le distanze e in basso a sinistra il valore di P quindi della significatività o non significatività statistica del confronto tra le diverse tipologie di scan body in conclusione cosa emerge da questo studio è uno studio importante perché andavano misurate le tolleranze di produzione di diverse case prima di tutto esistono tolleranze di produzione cioè voi non dovete credere che il pezzo che comprate sia perfetto tutti i pezzi che comprate hanno delle differenze uno con l'altro anche della stessa casa seppure minime perché comunque abbiamo trovato delle differenze minime comunque esistono differenze anche e soprattutto tra i diversi scan body delle diverse compagnie differenze anche statisticamente significative in altezza diametro e plane measurement ricordatevi che è molto importante e cruciale ridurre le tolerances in fabbricazione perché queste tolerances vanno a diciamo rappresentare un elemento di disturbo in quella fase di sovrapposizione che richiede congruenza tra la libreria e la mesh quindi è cruciale che le aziende producano bene gli scan body che riducano queste differenze di produzione tra le librerie CAD e il risultato vi invito a visitare il sito della Mangano Digital Academy a seguirci su YouTube Facebook Instagram e Twitter siamo la casa dell'odontiotria digitale e vi ringrazio per l'attenzione di sovrapposizione